Occhio a che chiedi di nuovo, una catta. Come tiene sto posto? Scusate il fotografo, ma io mi metto. Il lato B. Eh ma volevo far così, pronto non lo trovo forte. Guardali, volevo vantaggiarvi. Dai, guarda che bella. I piedi da una parte, la mano che ha appena girato e la partenza è fatta. Non ho toccato metà giusto, ma è sicuro che c'entra la vita. E' un po' meglio prima, poca vacca, bastarda. Vabbè, è andato bene in R.T. Quinto problema fra che non c'è un bar, un tabacchino, non c'è niente, non c'è un riservo. Prima è venuto malissimo. C'è il palazzo della via o c'è? Non mi sa che bicchieri da portare. Eh, fai portare la bicchiera. Guarda, la curva da dopo. Olmo! Olmo! Olmo che non le vuole!